Francesca Neri è stata presente ieri il 19 ottobre 2021 a Ti Sento, il programma condotto dal buon Pierluigi Diacquo. E la bellissima donna in questione, una donna intelligente, carismatica, colta e meravigliosa, pensate che, diciamo così, avrebbe fatto una liberazione. Il fatto che non sa se farà ancora l'attrice adesso non avrebbe questa esigenza perché avrebbe tutta quanta una serie di problemi che dovrebbe andare ad affrontare. Quindi non è certo, non è sicuro che continuerà a fare l'attrice. Lo avrebbe detto lei stessa questa trasmissione radiofonica, perdonatemi, non televisiva, che va in onda su Rai Radio 2. A margine di questa intervista, dove Pierluigi Diacquo chiede per la foto se il suo impegno futuro in qualità di attrice ci sarà ancora, ma la bella donna in questione non avrebbe assicurato che, diciamo così, continuerà a fare effettivamente parlando l'attrice. Anche perché deve avere a che fare con una quantità di problemi che lì si sarebbero parati davanti, quindi non è semplice andare avanti. E poi ha fatto sapere che le speranze ci sono per andare avanti, per cercare di essere più riconosciuta, ma non cerca questo riconoscimento, diciamo così, nel mondo del cinema, secondo quello che ho capito, però in altri modi. Ma non aggiungo altro. Questo video non vuole ledere la previsi di questa bellissima, bravissima donna, vuole solo informare eventuali persone di ciò che avrebbe detto alla trasmissione radiofonica, intitolata, ti sento, condotto dal buon Pierluigi Diaco, vi saluto. Ciao Pierluigi, il video termina qua, iscrivetevi al canale narratore italiano commentati, un saluto caro e al prossimo video.